I lavori sono iniziati il 10 marzo e si spera che possano concludersi nel mese di aprile, intorno al 20 circa. Ho pressato più volte, ho fatto pressing nei confronti dei responsabili dirigenti RAP affinché in un periodo abbastanza veloce potesse essere realizzato il CCR. Questo è il primo CCR della quarta circoscrizione, no? Sì, questo è il primo CCR che si trova all'interno del territorio della quarta circoscrizione, anche se fortunatamente circa un mese fa in Aloe è stato trattato anche la nascita di un'altra ipotetica zona in cui fare confluire questi rifiuti in zona Piazzale Libero Grassi. Speriamo ovviamente che anche quello che possa essere costituito prima possibile, in quanto l'area e il territorio di circa 115.000 abitanti, essendo abbastanza vasto, necessita di più punti dove far confluire questi rifiuti. Il 10 gennaio 2018 ho presentato in aula della circoscrizione, preposta una mozione avente ad oggetto proprio la costituzione di un CCR, quindi di un'area comunale di centro di raccolta appunto dei rifiuti, affinché si potesse frenare questo fenomeno che purtroppo coinvolge tutta la città dove vengono gettati illecitamente rifiuti in ogni angolo della strada. Abbiamo notato qui in zona, proprio al parcheggio Basile, alcuni depositi di rifiuti. Sì, infatti continuamente, giornalmente contrasto il tutto inviando delle istanze agli uffici competenti, la RAP o all'ufficio igiene o all'ufficio ambiente, in quanto ci possono essere anche dei rifiuti speciali e quindi hanno dei trattamenti ben diversi.